massimo caputi ti dico un paio di frasi ottimo tentativo ma il portiere rapiazzato e apparato senza problemi e poi soprattutto non mi vorrei sbilanciare con un pronostico beh sono fasi iconiche di del fifa 98 di questa saga che è cominciato appunto in quell'anno con insieme a me a giacomo bulgarelli poi insomma ha continuato negli anni ne sono passati 26 quindi ne sono passati un bel po ma rimane un momento molto bello e significativo della mia carriera professionale non tanto e non solo perché quello fu un riconoscimento alla coppia bulgarelli caputi sulle telecronache diciamo quelle quelle vere delle partite reali ma perché nel corso degli anni è stato un qualcosa che mi sono portato dietro e che mi viene riconosciuto ancora oggi e questo mi riempie di orgoglio di soddisfazione diciamo che tra le tante cose che ho avuto la fortuna di fare il fifa e dare la voce al fifa è una di quelle che probabilmente non voglio essere presunto se non è che ti fa rimanere nella storia ma ti fa rimanere nella testa e nell'immaginario delle persone e aver cresciuto tanti giovani con il fifa e con le nostre telecronache è qualcosa che è nel mio cuore e che probabilmente rimarrà ancora per un po di anni ma è qualcosa di iconico ma ti chiedo ricordi qualche altra frase o ti hanno mai fermato per strada per ripetere mi è successo non solo che mi hanno fermato per strada ma che addirittura adesso con i social ti mandano mi mandano dei messaggi non so su instagram piuttosto che su altri canali e mi chiedono se possono avere l'audio o il video di una frase per ne fare gli auguri a cose di questo tipo e ripeto questo mi rende molto felice e non so quante volte le persone mi hanno detto incontrandomi quanti giorni quante notti quante ore ho passato con la tua voce e questo ripeto è veramente un motivo di grande di grande soddisfazione quindi da questo punto di vista sono passati 26 anni ma è come se non fossero mai trascorsi perché diciamo in maniera molto frequente mi viene ricordato questo momento a tu che rapporto hai con i videogiochi hai mai giocato tanto a fifa al 98 soprattutto li ha giocato giocato guarda io ho giocato prima che nascesse mio figlio con mia moglie in gravidanza perché passavamo le serate con allora c'era il commodore quindi siamo alla norente della pre storia e giocavamo a monkey island pensa un po poi ho giocato ai videogiochi finché mio figlio ha avuto 7 8 9 anni perché poi a quel punto è diventato ingiocabile e io non potevo essere all'altezza però sì assolutamente sì e soprattutto ha giocato al fifa senti ti chiedo un ricordo anche su giacomo bulgarelli no che poi tra l'altro le vesti erano invertite all'epoca allora il commentatore tecnico di giacomo bulgarelli che è successo ciao giacomo è bello essere qui era una delle frasi iniziali per quello che riguarda il fifa allora prima parlo di giacomo un attimo alla giacomo è stato un fratello maggiore per me è stato un compagno straordinario noi eravamo in grande sintonia non solo nel fare le telecronache ma eravamo in sintonia dal punto di vista personale umano durante tutto il periodo che che passava nell'aspetto professionale cioè prima durante dopo le partite noi eravamo amici io dico che un fratello maggiore perché ero più giovane lui mi ha aiutato tanto sul piano dell'esperienza sul piano dei consigli non solo per quello che riguarda proprio la telecronaca ma in generale proprio nella vita quotidiana e soprattutto mi ha insegnato a capire a comprendere meglio il calcio proprio perché dalla sua classe dalla sua carriera da grande giocatore ma era veramente un grande uomo e quindi insomma con giacomo abbiamo vissuto delle esperienze straordinarie e ti dirò che le partite le telecronache erano un momento di una giornata di un lungo periodo noi siamo stati un mese in Francia un mese in Paraguay un mese in Uruguay cioè eravamo tanto tempo fuori insieme era bellissimo cioè erano un piccolo capitolo di un percorso molto bello e quotidiano immagino tanti pranzi tante scene tante cose cintura nera di pranzi e cene perché noi ce la godevamo preparavamo le partite con serietà però ci concedevamo i nostri momenti che erano i momenti di andare a visitare le città che non conoscevamo ma anche di gustarci le prelibatezze non mi potrò mai indicare una partita dovevamo commentare Barcellona Fiorentina nel no camp e la sera e noi a pranzo eravamo a Port Vail nella parte nuova di Barcellona dove poi si sono sviluppate anche una buona parte delle olimpiadi dei giochi olimpici abbiamo fatto una mangiata e una bevuta che siamo andati in albergo alle quattro e poi mi rischi di addormentarti anche durante la telecronaca però però professionalmente siamo stati impeccabili allora cosa è successo chiaramente io ero il commentatore e lui era diciamo l'esperto tecnico il telecronista e lui il commentatore tecnico e così doveva essere se non che era tutto pronto noi abbiamo registrato a Bologna che due giorni prima delle registrazioni arrivò il contratto dall'Inghilterra e avevano invertito i ruoli e a quel punto sarebbe stato un problema dover cambiare i contratti sarebbero dovuti ritornare era tutto pronto i testi e abbiamo detto sai che c'è va bene lo stiamo così andiamo così e poi abbiamo proseguito sempre con questo con questa inversione dei ruoli e poteva essere un'idea anche per le telecronache reali ma non lo so perché lì diciamo che è un po' diverso è un po' diverso ma non per difendere il mio lavoro ma per difendere quello di Giacomo che era molto più bravo di me a fare il commento tecnico senti però qualche aneddoto legato alla registrazione perché poi uno vede il prodotto finale ma non sa quanto lavoro quanto sforzo c'è da parte di chi poi presta la voce noi abbiamo passato quattro giorni consecutivi nello studio di registrazione praticamente dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 7 alle 8 di sera quindi 12 ore poi chiaramente con degli intervalli perché quando tu parli tanto poi hai bisogno di far riposare la voce la cosa diciamo aneddoti particolari non ce ne sono se non quello di appunto di stare tanto in studio da soli con un microfono davanti e una serie di fogli con tutta una serie di frasi che dovevi ripetere con più intonazioni quindi diciamo che da questo punto di vista è stato uno sforzo e da e per tornare all'aneddoto che ci siamo invertiti i ruoli a quel punto ha lavorato più luce molto più di molti più mai più battute sì sì molte più battute che quelle che avevo io però anche diciamo nel nell'immaginario nel racconto in quello che è rimasto non è nella memoria di tutti di questo gioco che ha segnato una svolta no perché noi fumo appunto i primi a dare il commento tecnico e forse la è rimasto ancora più diciamo nell'immaginario proprio perché avevamo invertito i ruoli perché sentirmi dire a me determinate cose ma l'arbitro ha visto male rigore oppure ha visto bene rigore quando era una rivoluzione nel senso della parola sia per il videogioco anche per le abitudini di chi guardava le partite di calcio un fallo da macellaio era un must la cosa più complicata qual è stata la cosa più complicata era appunto riuscire a dare la giusta inclinazione e euforia diciamo e enfasi senza vedere le partite perché cioè non è che noi eravamo vedevamo una partita noi eravamo lì ripeto da solo io avevo lo sguardo all'infinito non c'era uno schermo che proiettava azioni potenziali assolutamente niente proprio un leggio un microfono e i testi e allora lì tu dovevi leggere quel testo immaginandoti diciamo come l'avresti fatto quasi teatro eh sì bravo è come un doppiaggio dove tu ci devi mettere un po' i doppiatori sono bravi perché non ci mettono solo la voce perché ci interpretano ecco noi in quel caso siamo stati senza che non si offendano i doppiatori ma abbiamo dovuto interpretare il nostro ruolo senti qual è la squadra da fifa per te nella storia del calcio o da playstation perché spesso e volentieri si dice no una squadra gioca bene a calcio sembra la playstation la squadra da playstation della storia del calcio per me il brasile per me il brasile un brasile specifico o in generale beh guarda io avendo un bel po di anni diciamo al di là di quello che poi ho vissuto come come professione nella mia testa c'è il mondiale del 70 cioè c'è quel c'è quel mondiale dove c'era pelè dove c'era Gersinio, Riveligno, Tostau, Gerson cioè e se pensiamo quello fu un momento un apice l'apice del calcio anche italiano perché noi sì abbiamo vinto i mondiali ma l'abbiamo vinto negli anni 30 qui stiamo parlando degli anni 70 e la finale Italia-Brasile è qualcosa che ho in testa ricordo che noi avevamo un matrimonio quel matrimonio penso che l'hanno vissuto in pochi perché erano tutti davanti alla televisione ma e io per primo e quindi dico il Brasile perché il Brasile quando tu pensi al calcio a me lo parlo per la mia generazione per chi ha i miei anni pensa al Brasile il Brasile è il calcio e la gioia e l'allegria sono quei campioni che nascono sulla sabbia e che poi vanno in campo e che sono capaci di giocate incredibili e siccome la playstation se sei bravo fai delle giocate incredibili io penso che la squadra per antonomasia sia il Brasile il CT del Brasile quando deve fare la formazione titolare è un po' è come se si trovasse di fronte alla schermata con tutte le opzioni se tu pensi di dover fare un dream team brasiliano io adesso non li ricordo tutti ma io penso che si fa veramente fatica non sai da dove iniziare non sai veramente da dove iniziare per i più giovani i nomi che ho fatto prima a parte Pelè sono dei nomi sconosciuti c'erano Everaldo Carlos Alberto e voi pensate adesso scusa divago un po' però ai mondiali del 1990 che io feci con Telemonte Carlo che fu il mio primo mondiale da telecronista noi mi ricordo una scena con Pelè e Carlos Alberto cioè sono quelle cose che con la storia del calcio sì capito ecco per tornare agli anni settantane tra l'altro quel Brasile che viene eliminato se non ricordo male dall'Argentina di Maradona tanto per rimanere nella storia fu un Brasile diciamo abbastanza deludente no quello del mondiale del 90 però insomma c'erano anche in quel caso degli ottimi sinistri però insisto sulla domanda e ti chiedo la squadra e il club la squadra di club da playstation qua è più complicato sì forse è più complicato però per come squadra a me è una squadra che mi è sempre piaciuta anche se magari nel recente nell'immediato passato o comunque il passato recente ci sono anche risultati positivi però a me una squadra che mi è piaciuta sempre per l'atmosfera dell'Anfield Road è il Liverpool quindi io direi direi Liverpool pensavo mi rispondessi in Barcellona da playstation un Messi, Iniesta, Eto'Henri senti io ti posso dire questo per l'esperienza personale di aver frequentato tanti stadi e aver commentato tante partite l'atmosfera che c'è negli stadi inglesi e in alcuni per antonomasia Wembley e Anfield Road o che lo Trafford ma Anfield Road è qualcosa che io sarà che ho commentato talmente tante partite della Coppa d'Inghilterra della FA Cup che per me il calcio inglese ecco il Brasile per un verso e il calcio inglese per un altro per l'altro sì senti ti faccio una domanda un po' particolare secondo te chi è tra i telecronisti che avrebbe meritato di prestare la propria voce per un gioco di FIFA naturalmente successiva alla tua esperienza che va fino al 2002 se non ricordo male dal 98 al 2002 qualcuno che non l'ha fatto e che secondo te l'avrebbe meritato o che si presterebbe benissimo io non credo che l'abbia fatto e non so se per motivi anche diciamo legati a accordi con la Rai io credo che sia Pizzul che Pizzul è stato anche spesso criticato ma io credo che sia un commentatore fantastico bravissimo di una grande professionalità e soprattutto nella capacità con questa voce di modulare di quasi di accompagnare come deve fare secondo me un telecronista la visione da parte del telespettatore quindi io dico Pizzul che è un maestro e che con il quale abbiamo condiviso diciamo in qualche maniera in concorrenza tanti mondiali il 90, il 94, il 98 però grande amicizia e grande rispetto a proposito di voci iconiche no? lì siamo veramente nel top assoluto non me ne vogliono i giorni allora ti faccio adesso facciamo adesso un questo comincia il difficile adesso inizia il difficile mi devi indovinare le copertine chi c'era in copertina di FIFA 98 nelle varie nazioni perché poi in Italia c'era un calciatore nelle altre nazioni ce n'era un altro partiamo dall'Italia dal semplice Pagliuca Maldini Fabio Cannavaro o Cristian Vieri chi c'era nella copertina sulla copertina di FIFA 98 allora questa è una domanda un po' a doppio taglio perché nella scatola che ho a casa del World Cup della prima del 98 Road to World Cup non c'era non c'era nessun giocatore ma c'era la foto della Coppa cioè stilizzata la Coppa del Mondo poi però nella versione diciamo successiva quella del Mondiale mi pare ci fosse Vieri anche se anche se c'è un Maldini quindi adesso non riesco a livello temporale di dire se c'era prima Vieri o prima Maldini noi abbiamo dato Maldini come risposta esalta l'accendiamo al 50% ti chiedo Regno Unito ti do quattro opzioni Seaman Campbell Beckham Owen chi c'era sulla copertina di FIFA 98? Beckham c'era Beckham risposta giusta Germania Kopke Matthaus Müller Wiroff Matthaus Andreas Müller che abbiamo visto in Italia con la maglia non hanno capito niente non hanno capito niente diciamo che era la fine della carriera di Matthaus Spagna Sì Zubisarreta Raul Morientes Raul 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 e poi Francia l'ultima Bartès Deschamps Giorcaef Ginola 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 risposta questa non era facile tra l'altro curiosità sono andato a vedere di Ginola sono stati ripresi i movimenti per le animazioni del videogioco ma guarda è lui il prototipo Ginola forse non ha fatto o non è riuscito a fare quello che era nelle sue potenzialità giocatore di grandissima qualità un giocatore molto forte Ginola poi altra domanda cambiamo tipo di domanda ci vorrebbe una cuffia quanti campionati nazionali si potevano disputare adesso c'è tutto il mondo in FIFA 98 non si poteva fare il campionato nazionale di ogni singolo paese 8 11 14 o 16 8 11 e te li vado anche a dire erano Brasile, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Malesia Paesi Bassi, Scozia Spagna, Stati Uniti e Svezia e il campionato malesiano come diciamo che quelli li avevo riposti ecco forse c'è un discorso economico perché non riesco a capire per quale motivo ci sia la Malesia e poi questa secondo me è semplice quale era la canzone di apertura di FIFA 98 Road to Work Up Fat Boy Slim The Rockefeller Skank Blur Song 2 Moby Body Rock e Robby Williams It's Only Us No, Erony Blair su questo sono sicuro a certo punto E il motivetto era dun 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 tan 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 quello è rimasto quello è rimasto veramente iconico in chiusura in chiusura quando aspettavi lì che facevi le formazioni è tormentore sì, però non lo stancava no, è vero cioè aveva il pregio di non stancare erano stati molto bravi nella scelta erano stati molto bravi nella scelta visto che Road to Work Up sì facciamo la tua top 11 del mondiale di Francia 98 io ti dico quattro opzioni per ruolo tu secco così mi scegli il nome preferito vado Portieri Pagliuca Bartes Smaichol Taffarella Bartes che poi vince il mondiale terzino destro Cafu Turam Javier Zanetti ed Elbeg Cafu senza dubbio proprio centrale di destra Desailly Fabio Cannavaro Stam Campbell questa è un po' più dura Cannavaro Cannavaro centrale di sinistra Aldair Laurent Blanc Frank Debourg Aldair mi fermo mi fermo l'altro era Hierro no ma guarda un giocatore forte come Aldair in quel ruolo io ne ricordo pochi ma nel complesso non hai voluto sapere neanche le altre opzioni Aldair terzino sinistro oppure qui non sono mali non sono male immagino Roberto Carlos Maldini sì Lisa Rasu e Jarni che comunque era arrivato nel semifinale Maldini più di Roberto Carlos Maldini Mediano sì Dunga Davids Simeone Polins eh allora abbiamo divisi per caratteristiche i primi due erano Dunga Davids Simeone Inns ma guarda io ti devo dire che Davids diciamo quel Davids nel migliore delle forme è un gran giocatore Davids Davids scegli Davids regista Deschamps Jugovic Di Biagio Sedorf Sedorf che arriva in semifinale con l'Olanda grandissimo giocatore trequartista pure qui non sono male i giocatori immagino Zidane Boban Veron Rivaldo beh qui fai fatica devo dire che si fa veramente fatica perché come fai fai bene però io dico Zidane Zidane che il mondiale lo vince tra l'altro con doppietta in finale guarda io me lo ricordo commentai una partita del Bordeaux quando lui ancora era al Bordeaux Bordeaux Slavia Praga un freddo tremendo e già lì si vedeva che era un grandissimo giocatore allora siamo arrivati all'esterno sì Beckham Raul perché giocava nel 4-2-3-1 come esterno Laudrup e Babangida che aveva fatto un gran mondiale con l'Ani mi prendo Beckham ah pensavo stessi dicendo Babangida no ti prendi Beckham allora seconda punta anche qui per caratteristiche non hanno tutti le stesse qualità però li abbiamo accorpati Michael Owen Marcello Salas Roberto Baggio Dennis Bergkamp pure qua fuori concorso come Aldair Roberto Baggio Roberto Baggio l'ultimo il centravanti uno è Ronaldo uno è Ronaldo vediamo se li indovini facciamo così allora no non li indovino Ronaldo Vieri Batistuta e Davros Zucker che fu il capocannoniere di Francia allora scelgo Ronaldo anche se faccio fatica perché sia Batistuta per un verso e Bobo Vieri per un altro sono stati due grandissimi attaccanti però credo che un giocatore forte come Ronaldo ne ho visti pochi in quel ruolo la sua sfortuna è che gli infortuni lo hanno diciamo gli hanno impedito di non solo la continuità ma di esprimere ancora di più e meglio delle doti straordinarie quando parliamo di Ronaldo ce n'è uno ce n'è uno la frecciata cristiano bravissimo ma un'altra categoria tra l'altro talmente forte che diventa più iconica la sua finale non disputata o meglio disputata in certe condizioni che è un gol no? tu adesso mi hai fatto venire in mente la finale di Francia 98 che è stata una finale vissuta allo stadio dalle due del pomeriggio fino a luna di notte noi siamo stati in diretta non so quante dodici ore in diretta con tutta una serie di collegamenti oltre alla telecronaca e mi fai venire in mente tutta quell'ansia quel rimbalzo di notizie che arrivavano per il suo malore poco prima ci fu una modifica sulla formazione ufficiale giusto? ci fu un cambio all'ultimo minuto ed è un peccato che quella finale così bella con due squadre così forti non sia stata una vera e propria finale giocata come si sarebbe potuta giocare proprio in virtù di quello che è accaduto a Ronaldo perché era un Brasile non era solo Ronaldo a essere stonato diciamo era proprio tutto il Brasile Massimo grazie e che dire grazie a voi grazie a te ci mancherebbe è stato un viaggio nei ricordi e quindi non si vive di ricordi ma sicuramente attraverso i ricordi si può affrontare meglio il presente e il futuro grazie grazie a te grazie a te